Otto comitati di cittadini chiedono al Comune di Venezia che in piazza Mercato a Marghera non sorga solo il nuovo distretto sanitario, ma che questo ospiti anche una casa di comunità con un adeguato parcheggio. Non va bene smantellare 48 alloggi pubblici per fare spazio al nuovo stabile, scrivono. Caffarsetti dà l'impressione di voler tirare dritto verso la cosiddetta Nuova Marghera. Pensiamo alla piazza, col superamento delle cosiddette case gialle, la riqualificazione complessiva della piazza Mercato. Pensiamo alla novità di quest'anno che è il nuovo distretto sanitario che nascerà al posto dell'ex asilo e quindi nel giro di qualche anno di cantiere poi Marghera avrà finalmente dopo 20 anni un nuovo spazio sanitario con ambulatori, con medici, con infermieri, nuovo al centro proprio di piazza Mercato, al centro di piazza Municipio. Nel giro di qualche anno, perché si tratterà di cantieri complessi, qui sorgerà la nuova questura, ricorda Venturini, che darà più sicurezza a tutta Marghera. E poi via Ulloa e la nuova stazione di Mestre Marghera, tutti i progetti esistenti, approvati, in parte già finanziati, che da qui al prossimo biennio inizieranno a prendere forma.